Le chitarre rubate finalmente sono tornate nelle mani denegrita. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Arezzo hanno infatti riconsegnato gli strumenti musicali e gli amplificatori appartenenti alla benda ritrovati dai militari a seguito dell'attività investigativa relativa appunto al furto che si era consumato nella notte di Natale a Castelnuovo di Subbiano all'interno di uno studio di registrazione. Le indagini iniziate il giorno del furto sono state condotte dalla stazione dei carabinieri di Subbiano e dal nucleo operativo radiomobile di Arezzo. Avevano avuto una svolta quando due persone si erano presentate in un negozio di strumenti musicali di Perugia per tentare di vendere due delle chitarre rubate. Ma il proprietario del negozio a conoscenza del furto avvenuto pochi giorni prima si era insospettito e aveva fatto così una serie di domande sulle chitarre. I due ricettatori erano così scappati all'istante lasciandosi dietro gli strumenti musicali che avevano provato a vendere. I due malviventi, un cinquantenne ed un trentacinquenne, entrambi residenti nella Retino con precedenti per furto e ricettazione erano stati così individuati e rintracciati dai militari che durante le successive perquisizioni erano riusciti a recuperare l'area furtiva trovata all'interno di un forno in cemento che si trova in un parco pubblico tra i comuni di Subbiano e Dagnari. La restituzione questa mattina negli uffici del comando di Compagnia dei Carabinieri di Arezzo dove gli artisti Drigo e Mecca hanno potuto finalmente riprendere in mano gli strumenti musicali.